Buona pratica archiviata, siamo primi nel girone e abbiamo archiviato anche questa e possiamo pensare alla prossima possiamo dire che a Leverkusen andiamo a fare una gita, quest'anno veramente andiamo a farci una gita l'anno scorso mi ricordo a Berna l'ultima giornata è diventata una gita per come si è emessa poi la serata ma noi siamo partiti con la non certezza del primo posto tra due settimane andiamo a giocarci niente a Leverkusen, cioè Leverkusen si giocherà tanto e quindi bisogna soprattutto cercare di non farci male perché il fatto di andare a giocare contro una squadra che non ha più nulla da perdere, che Leverkusen deve assolutamente vincere potrebbe darci fastidio l'Atletico che adesso rischia comunque l'eliminazione perché deve giocarsi l'ultima partita e paradossalmente è strana la storia del girone perché paradossalmente la Lokomotiv potrebbe prendere l'infa vitale nel girone proprio nel caso la Juve battesse Leverkusen adesso non so qual è lo scontro diretto tra Leverkusen e Lokomotiv se la Lokomotiv forse è già eliminata beh comunque per quanto ci riguarda oggi un grandissimo primo tempo un secondo tempo un po' sottotono però veramente un gran primo tempo oggi bisogna dire la verità, oggi c'è stato anche un buon ospedale di gioco considerando l'avversario che avevi davanti cioè noi ragazzi, noi siamo arrivati nel corso di questi otto anni a far fatica col Norgelland a addirittura storcere il naso per un 1-0 in casa contro l'Atletico Madrid cioè che... cioè al di là dell'anno scorso abbiamo fatto un 3-0 perché eravamo obbligati a farne 3 però l'Atletico Madrid è sempre stata una squadra che dà fastidio a tutti è difficile giocare con l'Atletico una squadra che si difende difende in maniera anche cattiva, in maniera molto antisportiva incarnando perfettamente lo spirito dell'allenatore più anticalcio e antisportivo del pianeta che è Simeone che anche stasera ha fatto vedere la sua grandissima etica sportiva cioè dopo che Bonucci butta fuori il pallone per soccorrere Morata e Ronaldo lui non fa, non fa restituire il pallone ma giustamente, giustamente da grande uomo di calcio qual è? io credo che sia un allenatore sopravvalutato in maniera esponenziale e antisportivo però finché UEFA e FIFA gli permettono di continuare nella sua antisportività cioè oggi gli hanno permesso più di una volta di prendere il pallone e buttarlo in campo cioè lui non ha i limiti in panchina lui non ha la zona panchina la zona di competenza lui non ce l'ha lui ha tutta la linea no praticamente ma solo a lui è permesso tutto questo solo a lui solo a lui detto questo oggi un diballa spettacolare è entrato benissimo anche Bernardeschi soprattutto a non Ronaldo io direi che oggi tutto il tre centrocampo tutto il centrocampo non mi ha fatto impazzire i tre Mentankur, Matuidi e Pjanic e Ronaldo io credo che siano quelli che hanno giocato meno bene degli altri però anche Ronaldo c'è da dire che oggi Dibala stava facendo il Dibala proprio perché Ronaldo comunque anche quando come oggi non è in giornata si porta dietro 3-4 giocatori tutte le volte tutte le volte e niente ragazzi alla fine si vince si porta a casa 3 punti d'oro senza praticamente rischiare praticamente nulla e Delict dietro oggi Delict mostruoso sta prendendo sempre più consapevolezza e questo ovviamente fa ben sperare per il proseguo di stagione perché avere un giocatore come Delict in questa maniera è ragazzi cioè impressionante è impressionante e niente ragazzi devo solo dare migliore e peggiore a questo punto peggiore credo di darlo Ronaldo come ho detto comunque questo movimento si porta sempre dietro 2-3 giocatore quindi comunque è un giocatore che quando sento dire non è servito è fuori forma non deve giocare cioè io Ronaldo farei giocare sempre anche infortunato anche perché comunque come ho detto è un giocatore che si porta via due uomini almeno due uomini te li porta via cioè non c'è niente da fare creando sempre gli spazi migliore lo do a Dibala che si è inventato un gol veramente strepitoso ero indeciso tra lui Delict perché anche Delict ragazzi siamo lì propendo un pochino di più per Dibala proprio perché ha fatto il gol che ha deciso la partita anche se lui ha fatto una giocata strepitosa Oblak però ha fatto una bella papera bisogna essere sinceri e niente ragazzi si vola agli ottavi si vola che era già sicuro questo si vola da primi e oggi diciamo che è giornata positiva sia per la Youth League che per la Champions visto che anche la prima squadra come la primavera si qualifica come prima e si qualifica agli ottavi quindi così credo che oggi non si potesse chiedere tra l'altro Scesni zero parata è una nel primo tempo che la raccoglie che gli è scappato un attimo che poi la raccolta sulla ribattuta ma francamente non abbiamo rischiato nulla anche perché quello che abbiamo rischiato nel finale con Morata che ragazzi continuo a dire che è stato uno dei più grandi affari della Juve aver dato la recompra ridagli indietro Morata al Real è stato il più grande affare che potevano fare perché per me è un giocatore sopravvalutato in una maniera io credo che in Italia ci siano giocatori nettamente superiori a Morata come credo in molti paesi anche in Spagna sicuramente però ha fatto più Joao Felix in 5 minuti 10 minuti che è entrato che è morata tutta la partita è morata appena tornerà Diego Costa si risiederà comodamente in panchina perché è un giocatore sopravvalutato e scarso come pochi che si è mangiato un gol fatto anche se poi probabilmente veniva annullato anzi non è che poi forse veniva sicuramente annullato per fuorigioco e questo è un altro motivo di stare tranquilli per quanto riguarda la zona del ICT per quanto riguarda Matisse del ICT è che adesso la linea della difesa è uguale non c'è più squilibrio come i primi tempi quello di Morata è un errore clamoroso ripeto che sarebbe stato annullato poi il gol per fuorigioco però intanto per quanto mi riguarda va bene così insomma perché comunque sicuramente il gol veniva annullato però non averlo preso è sempre meglio e niente buone anche i terzini oggi bene anche Danilo e De Sciglio come ho detto un po' sottotono come ho detto prima i tre centrocampisti Bentancorp, Pjanic e Matuidi bene l'ingresso di Bernardeschi ma a me non è dispiaciuto neanche come è entrato a che dire infatti è stato uno dei pochi che ha avuto un'occasione poi nel centrocampo ecco ragazzi e a me non resta che salutarvi darvi appuntamento con i prossimi video del canale Juve prima Juve agli ottavi e a me non resta che dire fino alla fine forza Juventus ciao a tutti grazie a tutti